A Pescara è stato compiuto un secondo grave furto nel giro di una settimana ai danni dell'Emporio della Solidarietà Papa Francesco di Via Rubicone nel quartiere San Donato. La struttura che aiuta 150 famiglie indigenti è gestita dalla Caritas Diocesana e dall'Associazione Spazi di Prossimità presieduta da Umberto Pastore, che hanno deciso di chiudere per qualche giorno la sede per poter effettuare l'inventario e mettere i locali e la merce in sicurezza. I ladri, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, hanno divelto l'inferiata di una finestra al piano terra dell'edificio dell'ex sede di quartiere e sono penetrati all'interno portando via quintali di alimenti e detersivi. Nell'Emporio, che ha iniziato la sua attività il 1 maggio del 2010, si recano famiglie bisognose tre volte a settimana, nel lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 18, per fare la spesa con una card ricaricabile a punteggio che viene rilasciata dal centro di ascolto della Caritas. Ciascuno preleva i prodotti di cui necessita e alla cassa vengono scalati i punti. Nel 2018 sono stati distribuiti 15.589 kg di prodotti di varia natura. Don Marco Pagnello, direttore della Caritas della diocesi di Pescara Penne, spiega che la chiusura è stata resa necessaria per verificare l'entità dei danni e ripristinare la piena e adeguata funzionalità dell'Emporio per garantire l'assistenza a coloro che ne hanno bisogno. Gesti del genere rappresentano un duro colpo perché danneggiano la comunità dei più deboli. D'altronde, quanto accaduto è sintomo del disagio e della povertà presenti nel tessuto sociale. Mentre il presidente dell'associazione, Umberto Pastore, afferma di essere dispiaciuto sia per i tanti che grazie al volontariato permettono l'apertura dell'Emporio, le raccolte e tutto il servizio necessario perché funzioni tutto bene, sia per i tanti che liberamente fanno donazioni e vogliono essere solidali con chi è più in difficoltà.